Salve, sono il maestro Giuseppe Palma, docente di sax presso il Conservatorio Vincenzo Bellini di Palermo. Circa due anni fa ho creato un'orchestra di solo di sax alla quale successivamente ho aggiunto gli strumenti a percussioni creando un sound che mi ha permesso di spaziare dalla musica barocca al jazz. Questa formazione, unica nel suo genere così come è composta, non è passata inosservata e oggi la Buffet Grand Pont di Paris ha voluto realizzare con noi un video dove si vince quanto da me appena espressi. Non posso che augurarvi una buona visione e buona salute. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.